Amici e amiche di Qui Studio a voi Stadio, ben ritrovati dopo la triste eliminazione del Milan Champions pur con lo zuccherino dell'Europa League, di poter giocare in Europa League, direi che possiamo a questo punto fare un po' il punto appunto della situazione quest'anno, di questa stagione, siamo quasi a metà, l'obiettivo principale o comunque un importantissimo obiettivo non è stato raggiunto, certo il Milan non poteva pretendere di vincere la Champions, ma sicuramente di passare il turno, il turno sì, secondo me avremmo anche meritato per il gioco, per tanti eventi strani che sono successi, ma obiettivamente il Milan ha fatto un paio di partite in cui ha avuto tantissime occasioni, non ha segnato e quindi mal ce ne colga questa è la situazione. Ma veniamo un po' a quello che si diceva, quello che dicevamo, quello che dicevo a fine agosto. Riguardo la stagione del Milan c'erano quattro punti interrogativi, quattro domande che necessitavano di una risposta. Il primo punto era la campagna acquisti fatta, pur importante, pur con una grossa spesa, pur con tanti giocatori acquistati, anche grazie alla cessione di Tonali, finanziata appunto dalla cessione di Tonali. La squadra era a posto o, come sembrava inizialmente, erano rimasti dei buchi, era incompleta. Sarebbe stato sufficiente il tipo di giocatori comprati o i buchi si sarebbero manifestati. Secondo punto, si sarebbe riusciti a risolvere o a mitigare, a diminuire il grave problema infortuni che attanaglia in Milan ormai da un paio d'anni e che spesso costringe sia a giocare senza tantissimi appunto giocatori sia con assenze veramente, veramente importanti. Terza domanda, Pioli. Dopo una stagione con più bassi che alti, obiettivamente, dopo un quinto posto in campionato, dopo gli sberloni in faccia pesantissimi, che non ci si potrà dimenticare del derby persi consecutivamente in quel modo, Pioli ha ripreso in mano, avrebbe ripreso in mano la situazione? Sarebbe stato il Pioli dei primi due anni o il Pioli un po' perso, un po' nervoso dell'ultimo periodo? Infine, quarta domanda, la perdita pesantissima, voluta, scientificamente voluta, di una icona, di un elemento come Maldini, l'anima del Milan, un rappresentante degnissimo del Milan che è stato e con un ruolo comunque importante nel Milan presente, presente fino a qualche mese fa, e il licenziamento contestuale di Massara, il direttore sportivo, avrebbe causato dei problemi o invece ciò che rimaneva della dirigenza avrebbe tranquillamente supplito a queste assenze? Ecco, erano questi i quattro quesiti e ora vediamo se questi quattro quesiti, che risposta hanno avuto. Prima dalle risposte diciamo anche che, in ogni caso, la rosa del Milan non è una brutta rosa. La rosa del Milan, sì, è molto giovane, però ci sono dei giocatori molto forti, giocatori presenti al Milan da tempo, come Magnan, come Leao, come Theo Hernandez, come Ben Nasser, anche se finora non ha potuto giocare, e sono arrivati dei giocatori di un certo livello, Pulisic, secondo me, è molto molto forte, come Chukwet lo potrebbe diventare, come Musa lo potrebbe diventare, insomma, abbiamo preso una serie di giocatori bravi, Loftuscek è un buon giocatore, anche se ha qualche problema fisico, Reinders è da vedere, però, insomma, secondo me la rosa del Milan è più che attrezzata per competere fino in fondo, secondo me, perlomeno nel campionato italiano, perlomeno. Veniamo adesso, però, a rispondere ai quattro quesiti. La rosa. La rosa, sapevamo che non era stato preso il centravanti titolare, l'affare Taremi è stata una cosa pesante da digerire, e devo dire che Jovic solo adesso, solo da qualche partita, ha mostrato segni di, non dico di risveglio, ma proprio di essere un atleta, di essere ancora un calciatore, Giroud ha fatto piuttosto bene, anche quest'anno, ma, comunque, nelle partite fondamentali abbiamo scontato l'assenza di Giroud, o comunque, l'età di Giroud, 37 anni, mille battaglie, dovrebbe avere la possibilità di giocare una partita e poi riposarsi un paio di partite, cosa che non è stata. Difessori centrali, è stato ceduto Gabbia, ed è stato preso questo ragazzo pellegrino sconosciuto a tutti, soprattutto è stato confermato Kier, Kier di cui si sapeva, si sa, che è un grandissimo giocatore, il vichingo, ma che, ormai, dopo il pesantissimo infortunio che ha avuto, non è più in grado di reggere, infatti è stato fuori praticamente sempre. quindi il difensore centrale, appena manca un titolare tra Tomori e Ciao, tenendo conto che anche Kalulu potrebbe giocare, ma alla fine non gioca per infortunio, quindi il difensore centrale è stata un'assenza pesantissima, e non si è pensato di trovare un terzo o quarto centrale di livello. Idem non si è pensato di trovare il sostituto di Teo Hernández, e infatti lo stiamo pagando, perché? Perché Teo Hernández ora deve giocare centrale, a sinistra non abbiamo nessuno, se non il vecchio bello De Nonna Florenzi. E veniamo, avete già capito, parlando della rosa, parliamo in realtà, parliamo di infortuni, perché il Mian ha avuto anche dieci infortuni consecutivi. La società fa di tutto per minimizzare, ha fatto di tutto, no, questo non è un infortunio muscolare, no, si è fermato in tempo, no, qui addirittura in questo in qualche caso è colpa del giocatore, tutte queste robe qua. La verità è che in Milan sono due anni che ha un problema enorme di infortuni, non si è fatto nulla, nulla per risolverlo, e quest'anno il problema è esploso, e quindi hai voglia, come dicevo prima, avere una rosa buona e competitiva. Con tutti questi infortuni non si va da nessuna parte. Se poi a questi infortuni colpiscono anche i leao, cioè quei giocatori che sono determinanti, sfido qualunque squadra, sfido anche chi è oggi in testa al campionato, mancassero due o tre giocatori fondamentali, voi poi vedere come andrebbe a finire, ma ad altri non succede, o comunque succede in misura molto inferiore, in Milan è in testa ma nettamente alla classifica degli infortuni muscolari. Segno che c'è un problema, vediamo se riusciranno a risolverlo, ma non credo che si possa risolvere, perché la gestione è sempre la stessa. E arriviamo quindi automaticamente al discorso Pioli. Io dico che la colpa degli infortuni è di Pioli, per i suoi sistemi di allenamento, perché lo staff è suo, perché l'ha scelto lui, i preparatori li ha scelti lui, è uno staff ormai di 20 persone, quindi non penso che gli infortuni sia colpa dei medici, io penso che sia proprio del tipo di preparazione, del tipo di gioco, di qualunque cosa della metodologia per il rientro dei giocatori. Non lo so con certezza, fatto sta che non è una coincidenza, lo stesso Pioli ha detto non sappiamo cosa fare, abbiamo capito che c'è un problema, ma non sappiamo cosa fare. Inizialmente lo aveva, si era stizzito, aveva detto no, non c'è problema, chiaramente poi i numeri sono stati così impietosi che ha dovuto accettare e dire sì abbiamo un problema, ma al momento non so come risolverlo, il che è gravissimo. Stesso Pioli che, secondo me, ha perso molta della stima che si era conquistato all'interno dello spogliatorio, per non dire allo stadio, lo stadio non si canta più Pioli, it's on fire, e all'interno dello spogliatorio ci sono stati dei chiari segni di, non di ribellione, ma di nervosismo da parte di Giroud, da parte di Calabria, credo da parte di Kier, anche di Leao, cioè, secondo me Pioli, che tanto bene ha fatto all'inizio, la sua, la sua, sfida, la sua storia al Milan è finita, personalmente io, da tempo, lo ringrazierei, però andrei a cercare una soluzione diversa, poi ci dicono, no, ma chi metti, io dico che se una società come il Milan veramente non è in grado di trovare un allenatore in grado di allenare il Milan, mi faccio, mi faccio tante, tante domande. e per ultimo il discorso del depauperamento tecnico a livello manageriale, abbiamo perso Maldini, abbiamo perso Massaro, non è arrivato nessuno, il Milan ha tanti dirigenti che non fanno quello che sono capaci di fare, l'amministratore legato Furlani ha sempre fatto un altro lavoro, portfolio manager di Elliot, adesso fa l'amministratore legato di una società di calcio, Moncada ha sempre fatto il talent scout, adesso fa il direttore sportivo, Pioli ha sempre fatto l'allenatore, il mister, adesso fa il coach, cioè è colui che ha in mano tutta la gestione tecnica, lo stesso Ibrahimovic che adesso arriverà, ha sempre fatto il calciatore, adesso è diventato consulente, capiremo se un consulente è giusto così, in una forma leggera, sicuramente può consigliare perché ne capisce di calcio, se invece dovesse inserirsi molto a livello gestionale nel Milan, l'esperienza non ce l'ha, che Dio ce la mandi buona. Ecco, questo è il quadro del Milan, io direi questa è la dura verità, la dura verità del Milan, una squadra che per tanti motivi andava bene, è stato fatto un bel progetto, poi il progetto invece di implementarlo, di svilupparlo, di fare molto bene, è stato un po' smontato e ricominciato. E con queste quattro situazioni non semplici da gestire, che si stanno sviluppando negativamente, secondo me è un progetto che non porterà a nulla di buono, se non, come ho detto, al fatto che abbiamo una squadra piuttosto giovane e se perlomeno si riuscisse a risolvere i problemi di infortuni, potremmo comunque fare una discreta figura, perlomeno, nel campionato. Un saluto a tutti!